Ma qua stai tu Te credo che sia bloccato eh? Oh Filippo sta roba è legale eh? Non è legale è che ho dovuto fare qualche ricerca per lavoro Ah sei diventato ginecologo adesso? No perché vorrei capire per quale motivo hai cliccato su scolarette obbedienti Guarda qua ma puri siti a pagamento Beh pensavo fossero più sicuri Quali più sicuri? Eh ma guarda invece di buttare i soldi su sta roba no? Ma perché non mi fai una donazione per il mio crowdfunding che è una cosa utile, importante Beh te la faccio, te la faccio Mandami il link e ti faccio l'offerta Filippo Io te l'ho già mandato il link Vabbè mi deve essere sfuggito Ma che è un pony quello? No Ma come no è un pony Allora guarda io capisco tutto no? Vado anche contro i miei interessi Ma tu con sta roba del porno te devi dare una carmata eh? Ma guarda qua guarda qua Granny World ma pure le vecchie Vabbè mi piace spaziare Vabbè ho capito ho capito Però metti il caso che fai che ne so un incidente con lo scooter no? E muori eh? Tu ti rendi conto che questo computer va nelle mani di tua madre? Ti rendi conto che figura che fai? No 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 la mamma no eh Ecco Franco tu mi devi promettere una cosa Se dovesse succedermi qualcosa Mi prometti che il mio computer lo fai sparire tu? Non lo faccio sparire a me mi fa schifo pure toccarlo sto computer Ma che ne so un hobby? Ma leggere un libro? La fidanzata no eh? Vabbè internet è più economico E poi le ragazze più fighe sono tutte qui dentro Comunque è pronto il computer? No non ancora E' che mi servirebbe per una cosa urgente Te l'avevo pure scritto no? Filippo sono stato incasinato va bene? Vabbè allora io che cosa sono venuto a fare? Potevi dirmelo no? Te l'ho scritto ovunque Te l'ho scritto su Facebook Te l'ho scritto su Twitter Te l'ho scritto pure su Linkedin Non c'ho Linkedin Non c'hai Linkedin E perchè? Perchè? Perchè Linkedin eh? E perchè Facebook no? E perchè Twitter E perchè Instagram eh? E perchè Snapchat Non ce l'hai Snapchat E fatti Snapchat no? E il telefono 3G 7G 9G E la macchina Euro 3 Euro 37 Euro 54 E i web E i friends E i follower E tagami E aggiorna lo stato E mettimi il like E aggiorna la foto E dove stai? Con chi stai? Come stai? Non sai che c'è Fini? Eh? Che mi potevi fare una cazzo De telefonata Baffanculo P-passa la lunedì che Che magari è pronto Va bene